Sarà un vero spasso? Non so fare nessuno di quei fantastici giochi di gambe, ma conosco qualche passetto. Attacca! È un ballo che ho inventato quando mi si è infilata un'ave dentro la maglietta. Mi pare che faccia più o meno in questo modo. Allunga le braccia fingendo che siano maliche come me. Dai non siate timidi come JP. Ah 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 sì! Cosa? Non dice come il mare? Così! Come JP! Può sembrare JP, forza dai, sei ok se sbagli il freestyle. Ehi! In questo modo mi provo in tutte le direzioni. Come JP! Garaggio voi che siete a casa, alzatevi e ballate! Sapete è davvero facilissimo! Come JP! Sì!